Abbiamo i giocatori che analizzeranno con noi direttamente la partita che abbiamo guardato un attimo fa Valsecchi contro Muruni Prego, do la parola ai nostri eroi Posso chiamarvi così? Oggi no, ma diciamo va bene L'apertura è stata una scelta tranquilla anche se chiaramente ha qualche idea velenosa non sapevo cosa Luca giocasse in questa posizione Il cavallo D4 è interessante Il cavallo D4, no, di solito faccio il fiere B4 però è proprio piatta piatta Cioè piatta nel senso che il bianco ha idee, il nero no Il nero si adegua Si adegua a quello che fa il bianco No, il fiere D6 anche io la consiglio per il nero è più interessante qui già ci sono diverse mosse dicevamo giusto poco fa che A3 è una mossa interessante per conservare l'alfiere Campochiaro e qualche volta ci sono idee di lasciare arroccare il nero per poi attaccare velocemente sul lato di Re con G4 e poi nella stessa linea come nella partita dopo arrocco D3 A6 il bianco può anche fare alfiere C4 e conservare l'alfiere in A2 per non farselo intrappolare e di solito l'idea del nero è quella di fare una veloce torre A8 e alfiere F8 per riciclare l'alfiere velocemente e poi svilupparsi come se fosse un'italiana alla fine si rientra in una struttura di italiano questa D3 che ho fatto io consente chiaramente al nero di mangiarsi l'alfiere però però si D4 c'è sempre D4 nell'aria devo stare attento perché ogni volta che faccio cavallo A5 D4 come è successo in partita è sempre interessante qui no qui non mi sembrava interessante ok altri colpi tattici che possono essere interessanti sono quelli con cavallo per E5 e D4 perché l'idea è che l'alfiere non ha sì però alfiere D6, alfiere B4 ogni tanto però sì ho anche alfiere D6, alfiere E7 e poi il nero non deve nemmeno rovinare la struttura perché può rimangiare di alfiere in F6 non dovrebbe essere grave tra l'altro altre idee che pensavo in partita potevano essere idee con alfiere per D4 perché qui a volte ci sono dei tatticismi in cui il nero con C5 e C4 riesce addirittura a godinare un pezzo tipo donna E7 minaccia C5 e poteva essere fastidiosa per cui ho pensato che arroccare subito sarebbe stata sicuramente meglio e qui mi aspettavo forse subito cavallo per alfiere B7 non so qual è sia la differenza eh non volevo lasciarti D4 proprio senza arroccare D4 adesso c'è cavallo per E4 però sì pensavo questo stavo valutando anche una posizione con cavallo per E5, D4 e poi alfiere per H2 di cui non ero ma deve essere buono per il nero no? sì o lo scacco in H4 ogni tanto? sì pensavo pensavo che il nero stesse bene non so se questo si può mangiare ah no perché reggi 1 sì perché c'è comunque l'inchiodatura cavallo per, cavallo per alfiere per alfiere per, torre 1 donna H4 e arrocco no? sì G3 donna H1 matto questo per il pubblico si può fare sì 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 e qui non ho modo di recuperare il cioè di guadagnare nulla un pedone in meno quindi questo dovrebbe andare bene per il nero e infatti sì questo alfiere per H2 mi dava mi dava fastidio infatti probabilmente qui avrei fatto alfiere G5 si potrebbe rientrare in una struttura tipo la partita però pensavo avessi qualche idea in più rispetto sì senza arrocco sì magari non hai problemi di arrocco magari H6 G5 sì e donna H7 poi esatto si potrebbe giocare però boh in una posizione di questo tipo però D4 sta arrivando anche qui sì anche questo non ero sicuro di niente D4 sinceramente volevo arroccare e giocare tranquillamente no qualche vischio c'è chiaro sì sì quindi arrocco arrocco alfiere G5 H6 alfiere H4 questo mi sembrava normale sì ho pensato un po' se c'era qualche differenza ma alla fine non ho notato grande differenza cioè se fare o non fare H6 però mi sono fatto una via di fuga sì H6 può essere utile perché qualche volta c'è G5 in un tempo solo mentre invece se il nero la fa dopo mi dà comunque l'opzione di mangiare in F6 in qualche variante forzata per cui ok cavallo per B A per B alfiere B7 D4 e per D4 e per D4 e qui si è arrivata l'offerta di parta non mi aspettavo qua stavo pensando indipendentemente dall'offerta perché ho tante opzioni interessanti non so se E5 è possibile ma è quella che ho scartato prima alfiere per F3 donna per D4 però mi sembrava che anche la posizione dopo alfiere per donna per alfiere via pure se dopo in F6 rischio solo di stare peggio non vedo nemmeno in questo finale perché comunque l'alfiere in B7 è molto forte sì sta molto peggio quindi E5 vista un attimo mi ha scartato subito il grande dubbio era fra donna per D4 e cavallo per D4 donna per D4 alfiere E7 pensavo E5 cavallo E8 sì secondo me qui ho buona chance donna per cavallo D5 donna E6 donna E6 e torre A D1 pensavo anche a donna D8 in realtà sono al posto di donna E6 sì perché questa vedevo D6 torre E1 quantomeno ero abbastanza attivo perché l'ero all'alfiere che chiaramente alla lunga può essere molto forte però il bianco ha i pezzi ben centralizzati quindi la giudicavo più o meno pari questa posizione e anche donna D8 è possibile sì forse può giocare addirittura il nero per qualcosa in più in questa posizione secondo me no una volta che arrivo a D6 torre E1 sì deve essere pari anche perché ho C7 ogni tanto debole quando fai D per E donna per ho sempre il problema in C7 sì ok D per E donna per cioè il problema di queste varianti è che se il nero vuole probabilmente mangia in D5 e fa cavallo D6 e la posizione sembra un po' come nella Berdinese un finale assolutamente equilibrato per cui questa no no l'unica che mi sembrava dare più possibilità era cavallo per D4 alfiere E5 però qui non sapevo cosa potesse fare il alfiere E5 vuoi da non pensare ti debolisce troppo G5 e la casa F5 sembra un grosso problema no aspetta G5 l'ho pensato sì anche io cavallo D6 no allora ho visto proprio prendere no prendere non mi piaceva per F per G3 ma preferivo cavallo per Watt sì se mangio in G3 F per G questo sembra estremamente pericoloso perché arriva molto velocemente da un H5 e poi mi sembrava è forse il meglio quasi di vincere eh perché non ho donna F6 esatto perché toglie la casa F6 alla donna che è molto importante in queste posizioni no vedevo cavallo per E4 quindi bisogna fare cavallo per E4 io pensavo cavallo F5 donna F6 credo no si può mangiare prima in G3 o? sì non so se cavallo per H6 è una mossa forse rischi no? vediamo H7 donna H5 cavallo E2 ok ok H1 e sì forse è pericolosa questa sembra pericolosa poi da verificare chiaramente però le scoperte sembrano fastidiose e comunque sono le due sempre in presa quindi questo no io pensavo donna F6 e vabbè si entra in questo finale sia mangiando in E4 sia mangiando in F5 dove io mangio D6 e si ottiene una posizione di di Alfieri contrari che anche qui non mi sembrava abbastanza Fier per C2 non l'ho vista però però Fier per C2 funziona ok magari donna donna D5 e Alfieri per B3 strike questa donna D5 insegue la donna non posso fare nulla no però donna D2 diciamo torre 8 sarà pari sì sembrava sembrava pari era un pedone in più però Alfieri contrari Alfieri B4 Alfieri C3 ok pronto donna G6 F6 donna G6 H7 mi sembra la linea quella che stanno giocando Caruana Carlsen no? sì quando ha fatto H3 che a un certo punto c'era sta diagonale che il motore dava pari tenendo il re in H7 e la torre in G8 sì questa mi sembrava equilibrata se no qui dopo cavallo per E4 sì non vedevo il modo di impedire donna F6 però per esempio anche posizioni di questo tipo possono essere interessanti sicuramente il bianco ha compenso per il pedone Alfieri era in G6 esatto Alfieri era in G6 uno dei due pedoni D si può anche perdere e se non ho la casa F5 non vedo come sfruttare le case nere del suo arroco F3 Alfieri G6 F4 sì F3 Alfieri G6 F4 questa è possibile ma la minaccia? F5 forse F5 ah non ho la casa donna F6 allora F5 Alfieri H5 può essere un'idea sì però sì sicuramente no può essere qualcosa c'è compenso di sicuro ma anche una posizione così mi sto chiedendo come sia non vedo chiarissimo perché il nero dovrebbe stare peggio forse forse qualcosa però donna D2 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 se funzionava se funzionava G5 sì tutto questo è G5 che non è detto che fosse però come alternativa avevo Alfieri 5 cioè se avessi rifiutato patta avrei fatto avrei pensato sì perlomeno se F4 eh man cosa volevo fare volevo mangiare sì donna e cosa volevo fare non mi ricordo già più forse D6 no cosa volevo fare se F4 D6 si può no D6 sto peggio mi sono completamente dimenticato il piano ok fa che vedere D6 si può no F6 quindi E5 no perché sto pensando D per E presa G5 presa F2 torre G4 com'è no questo va bene per il nero ma dopo torre D4 poi mangiare F6 sì torre D4 alfiere per F6 G per F6 torre D2 torre F6 torre D2 torre F2 un pedone si cosa ho visto su F4 ne sono completamente dimenticato ma ho finito la partita due minuti fa possibile che non l'ho pensata è improbabile che non l'ho pensata F4 beh non ci sono tante alternative no o mangi D6 posso pensare di call F5 ho pensato anche call F5 non so alfiere per F4 e G5 però no aspetta alfiere per F4 alfiere per D4 e C5 com'è no muovi la donna no sì idea donna per C5 callo per E4 questa è l'idea ah no ma si però sto peggio se mangio la donna mangio qui no sto peggio non è mangi pedone in T beh oddio c'è C2 sì però c'è C2 no però sicuramente non è chiaro questo cosa qua il meglio cavallo E4 e poi cavallo E6 forse no io qui pensavo come alternativa anche Torre E8 che è un po' strana però l'idea è dopo callo F5 mettere la fiera in F8 come spesso in questa variante succede questo lo pensavo ma il problema il mio problema era semplicemente dopo F3 che non posso far G6 per donna D4 D5 la puoi fare forse sì eh il fiero per F6 callo per D5 c'è B2 c'è B2 sotto però però un callo in F5 non è mai piacevole eh ma G6 veloce no? ah sì non so se subito forse subito G6 e poi donna per B2 se cavallo D4 torre D8 il nerro vince un pezzo e se cavallo donna D4 se donna D4 bianco vince bianco vince no ok no no anzi forse per donna C6 donna C6 c'è alfiere C5 o donna G5 anche forse ah forse ancora H4 H4 Sì però rischi inutili per il bianco sì sì anche torre E5 forse torre E5 com'è? ah che minaccia alfiere C5 e minaccia il cavallo quindi non si può fare no questa lì sembrava sì 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 forse è un torre 8 interessante non ho visto il D5 no qui pensavo un'altra mossa tipo torre 1 donna F3 però c'è sempre o G6 o G5 che forse è da fastidio anche su donna F sì anche su donna F3 vediamo anche D5 comunque Carlo per H6 ah Carlo per H6 G5 poi D5 rischiosa boh magari no ma c'è E4 in presa sì qua c'è E4 in presa riscosa per il bianco sembra sano sì però chiaro dopo Carlo per D4 una posizione forse promettente però comunque era abbastanza complicata cioè una volta uno decideva di giocare probabilmente era aperta no secondo me era donna per D4 a tanti risultati mi piaceva di più ma quindi qui la conclusione forse torre 8 alfiere F8 e se torre 8 F4 si può mangiare si può mangiare si presa torre per cavallo F5 e scacco questa risolve ok c'è anche F4 sotto però forse si può bravo non ero sicuro non ero sicuro forse anche torre per F4 forse anche torre per F4 senza lasciare tutti i persi sospesi si ok sembra andare no penso che la posizione più probabile come ho detto prima fosse quella con donna per D4 alfiere F7 e alfiere F7 e 5 con le 8 c'era altro per il bianco no non ho visto non ho visto altro oltre ad alfiere per E7 cavallo D5 quello lo devi fare perché se no c'è F3 sotto e qui c'è la scelta per donna D8 e donna D6 non è D8 pensavo sì crediamo che questa posizione sia più o meno equilibrata chiaro si si poteva giocare in questo senza dubbio però questa è la conclusione sì non ho altro posso vedere per D4 no? tipo donna no donna E7 no perché perdevo no cos'è donna E7 sì donna E7 sono anche cose così però qui forse davvero la posizione dopo tutti i cambi è F3 questa sembra no mi mangiavi D7 ah mangio D7 mangiavi prima in F6 sì perché con la donna in E5 torre D8 e poi torre D2 perché non hai case per la donna ma quella donna in F6 non ce l'ho sì e sto peggio c'è C7 in presa sì questa si può fare ma in realtà credo che anche una posizione così forse possa essere leggermente migliore per il bianco comunque l'alfiere in B7 è annullato l'alfiere in campo scuro gioca e il bianco può avere possibilità di attacco è una variante interessante comunque qui nelle posizioni di alfiere contro cavallo abbastanza sbilanciate però siamo stati in pace rispetto reciproco sì assolutamente ok